Camminare, camminare, in mezzo a un prato, soprattutto vedere alberi di olivo. Guardate questi alberi come sono giovani, hanno già le olive. Camminare, camminare, ecco quanti ce ne sono di alberi, di olivi. E' un campo molto vasto, sembra di essere nella riviera Ligure, i muri che hanno costruito i contadini. Guardate quest'albero come carico di olive, si vede che sono di ottima qualità. Ecco qua altri alberi, cammino, cammino. Forse è più bello qua che camminare in mezzo a quella gente di città. Vedi un sacco di persone, tutte con la cuffia nelle orecchie, le orecchie tappate, non parlano, espressioni amorfone. Forse ha più un'anima un albero. E' più espressivo di quelle persone lì che tutto il giorno sono con quell'apparecchio, con le orecchie tappate, vedono il mondo lontano e non vivono il mondo vicino. Ecco quanti alberi, quanti alberi. Sembrano persone tutte in fila, pronte ad ubbidire. Ecco poi, ecco, guardate il panorama di quella villa lì. Oggi c'è un sole limpido, sereno. Siamo già all'11 settembre e c'è una temperatura di 30 gradi. Mi trovo in Val Camonica, vicino al paese Losine, dove tutto qua è tranquillo.